Ciao a tutti, io sono Anna e tu? Io Manuel. E Manuel. Oggi vi facciamo vedere i nostri segnaposti per la fine dell'anno, per il cenone. L'occorrente sono dei bastoncini, delle farfalle, poi abbiamo bisogno degli smalti per le unchia, glitterati, e poi la pistola con la caldo, e dei colori, e poi dei pannolenci di tutti i colori. La nostra idea è praticamente realizzare sul bastoncino il nome dell'invitato, incollare la farfallina che Manuel sta glitterando. Ogni nome sarà fatto da un colore diverso e ogni colore riprenderà il colore del pannolenci che andremo a tagliare rotondo, che poi andremo a mettere nel fondo del bicchiere, così ogni persona riconoscerà il bicchiere dal colore del suo nome. La qualità è un po' scadente, ma in realtà, visto che siamo a 5 ore dal veglione, penso che può andare bene. Andremo ad arricchire con degli strass. Eccoci qui. Il video è iniziato male ed è finito peggio, praticamente la batteria ci ha abbandonato, però il progetto è semplicissimo e facciamo un riassunto. Abbiamo bisogno dei bastoncini dove abbiamo scritto il nome del commensale, abbiamo arricchito con una farfallina di pasta, da mandare, decorata con lo smalto glitterato che l'ho fatto io e degli strass. Che l'ho fatto io questo lavoro, sono del mio. Per il bicchiere abbiamo tagliato un disco di pannolenci se non entrava il bicchiere abbiamo fatto il foro e un taglio in modo tale che se no non entra il bicchiere. Capito? Questo è il progetto finito. Ogni commensale avrà il suo bastoncino con il colore di richiamo al nome che è sul bastoncino. Spero che il progetto vi sia piaciuto. Io vado a cucinare, vi auguro un buon cenone e un fantastico inizio dell'anno. Tanti auguri da buone eventi per tutto il mondo! Auguri a tutti! Grazie! 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 Grazie!